E allora, a me hanno insegnato, forse l'ho imparato da solo, non so se me l'hanno insegnato, che quando la tua squadra vince tu sei contento e festeggi, quando la tua squadra perde tu sei arrabbiato. No, lo specifico perché spesso i tifosi della Juve nell'era social ormai la pensano un po' al contrario, a volte mi sento a disagio io perché quando vinciamo mi dicono ecco tu esulti, quando vedrai poi arriveranno le partite come quella di Bergamo. Sì, infatti dopo la partita di Bergamo eravamo tutti molto arrabbiati o desolati, io più desolato che arrabbiato, poi però si vince il derby, bene, 2-0, Torino siamo noi, non loro, sono oltre 20 anni che a parte un episodio non vincono più la stracittadina, che tra l'altro è la partita a cui tengo di più e io in quanto torinese tengo particolarmente a questa partita, a vincere questa partita e quindi siamo felici, siamo contenti, la vittoria fa vedere, dimostra che questa squadra cerca comunque di trovare una via di uscita alle enormi difficoltà che oggettivamente ha difficoltà che abbiamo visto in modo molto chiaro nel primo tempo, tra l'altro cortesemente ti chiedo di iscriverti al mio canale, grazie mille, se lo vuoi sostenere ci sono anche i grazie, se vuoi grazie in anticipo appunto. Primo tempo desolante, triste, con la solita difficoltà nell'uscita bassa, io ho avuto questa impressione, in questa come in altre partite, che quando la squadra avversaria si posiziona come vuol posizionarsi, e cioè rendendo difficile alla Juve il possesso palla, le vie di uscita, le linee di passaggio, la Juve va in difficoltà enorme. A Bergamo, con una squadra di livello diciamo paritario, anche se chiaramente la rosa della Juve superiore a quella dell'Atalanta, la Juve ha accettato di lasciare le redini del gioco alla squadra avversaria per giocassela per un punto, l'hanno dichiarato loro stessi, l'ha dichiarato anche Shezny. Oggi era un altro discorso, il torno nell'Atalanta, si giocava in casa, si giocava finalmente con una curva che ha tifato, e faccio un applauso perché dopo hanno voluto fortemente i gruppi organizzati queste pseudo trattative, io ho fatto anche un video che ho pubblicato proprio questa settimana in cui auspicavo una forma di accordo tra Juve, Questura, Odigos e gruppi organizzati. Credo che oggi si siano comportati bene e la squadra, a mio parere comunque, ne risente in modo positivo. Non è mai bello giocare in casa. Quando, ecco, risposta a tutti quelli che, eh ma è gente che guadagna milioni, che cosa vuoi che gli cambi se senti un fischio? Eh no, ragazzo mio, perché altrimenti non ci sarebbe questa differenza tra giocare in casa o giocare in trasferta. Quando giochi in casa, siccome è il tuo pubblico, tendenzialmente le squadre giocano meglio, attaccano di più e fanno anche più punti. È sempre stato così da quando è nato il calcio. Ora te ne arrivi te e dici che invece no, non conta niente perché sono milionari. Cioè, va bene che di calcio come di politica possono parlare tutti, però anche un po' meno di qualunquismo non guasterebbe. Quindi oggi invece, tutta la prima parte del primo tempo, il Torre ha messo molto bene in campo e la Juve non trovava modo di uscire dal basso. Delle robe veramente imbarazzanti da notare la scelta piuttosto contestabile da parte di Allegri di mettere Miretti dietro l'unica punta a Ken. E io comunque me l'aspettavo che avrebbe fatto una roba del genere. Per fortuna è un esperimento fallito. Tra l'altro, fine gli ultimi 15 minuti del primo tempo, la Juve è uscita un po' più fuori, anche perché era pietosa fino a quel momento. Una sola vera occasione da rete è quella di, vabbè, il gol annullato di Ken, ma tanto è stato annullato. E poi il tiro cross di Kostic. E basta. Primo tempo devastante. Poi il calcio è bello perché spesso e volentieri capitano cose come sono capitate oggi. Cioè, in modo del tutto estemporaneo, la Juve passa in vantaggio con Gatti al termine di un'azione, a me sembrava chiaramente in fuorigioco, ma la cosa che ho pensato è stata se ci mettono così tanto è perché evidentemente la palla a Gatti è arrivata da un giocatore del Toro. Infatti è stato così e quindi vantaggio. A quel punto la partita è cambiata. È cambiata, a mio parere, soprattutto perché è entrato in campo Milik. Milik oggi si vedeva che era in palla, probabilmente avrebbe meritato di giocare dall'inizio, però alla fine se si vince a partita in corso grazie a una soluzione va benissimo. È stato artefice prima anche di un colpo di testa a schiacciare su un cross di Kostic, molto bello. E poi ha anche realizzato un gol, poi ha avuto un'altra occasione. Insomma, a mio parere Milik migliore in campo. Peggiore in campo Miretti, ma sono stato fino all'ultimo indeciso se mettere Rabiot, perché anche Rabiot quest'anno non sta dando niente di quello che dovrebbe dare. Quindi, vittoria, vittoria del derby. Mi dispiace, non è vero, non mi dispiace, per tutti gli amici del Toro che inizierò a sfottare. Anzi, voi non lo sapete, ma in realtà la forma di sfottò migliore rispetto a quelli del Toro è ignorarli, perché loro si aspettano i messaggini, le cose che hai visto, sono 100 anni, etc., etc., e invece no, staranno lì con il cellulare in mano, pensando, ecco, questi sono i gobbi che mi mandano i messaggi, e i gobbi invece vi ignorano, perché Torino è bianconera, molto semplice. Allora, io direi che, beh, chiusura finale su questa partita, quando si vince va sempre tutto bene. Secondo me, ad esempio, Ken ha fatto meglio di quanto sono sicuro che molti li riconosceranno, specialmente nel secondo tempo. Nel primo era tutta la Juve in palese difficoltà, quindi non si poteva fare di meglio. Ora viene il bello, perché ora iniziano ad arrivare gli scontri diretti. La prossima settimana c'è il Milan, o meglio, la prossima partita dopo la sosta è col Milan, e vedremo di che pasta siamo fatti. Forse questa potrebbe essere una Juve che fatica in determinate partite, ma negli scontri diretti potrebbe. Dico, potrebbe trovare il giusto filo. Forse perché libera dalla costrizione, dal sentirsi in dovere di fare la partita. Ma lo vedremo. Poi alla fine, ripeto, come ho detto all'inizio, io sono stato abituato così, sono un tifoso semplice. Se la Juve vince, sono contento, passerò un bel sabato sera, passerò, mi auguro, una bellissima domenica, e l'auguro anche a voi, e l'auguro anche a quegli juventini, che invece sono già lì sui social a scrivere, eh, vergogna, allegri out. Ciane.